Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ica Sirro e oggi siamo tornati qui per vedere un'altra chat horror inventata da me. Questa è la continuazione dell'altra chat, se non l'avete vista andate a vederla, ma noi ora iniziamo. Ciao Lisa, ciao Clara, che hai? Non mi chiami mai per nome, di solito mi chiami Pulce. Dai puoi dire tutto a me, è che sono perplessa per ciò che è successo a Lola e Mike. Già, beh sento anche dei rumori molto strani, io invece sento come delle voci. Unisciti a noi, ma penso sempre che sono nella mia testa. Ehi, per distrarci vieni a dormire da me, guarderemo i film su Netflix. Ottima idea, mi preparo e arrivo, mi faccio portare da Luca. Ok, a dopo. Cinque minuti dopo. Ehi, sono appena uscita di casa. E allora? Le voci le ha sentite pure Luca? Non sarà nulla, vedrai. Ok, ora salgo in macchina. Ma com'è la sensazione che ci sia una terza entità in auto? Non so che dire. Oddio, che c'è? C'è un cervo allacerato a metà. Cosa? Lo sai che io sono animalista. Sta uscendo qualcosa da questo cervo. Cosa? Un fantasma guai a Mike e dalla macchina uno guai a Lola. Ah, allora avevi ragione. Parlaci. Ok. Vado con loro. Addio. No, sarò lì tra cinque minuti. Corri prima che Samara arrivi. Troppo tardi. Che hai fatto, Alisa e Luca? Sono diventati due fantasmi. Unisciti a noi. No, mai. Credi di avere scelta? Guarda dietro di te. No, lasciami sta... Ora saremo insieme per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Stato? Presto arriverò anche da voi. Mi raccomando, se vi piacciono questo tipo di video, scrivete nei commenti hashtag AltreChatOr. Vi invito a passare sul canale di Royal Virus e di iscrivervi perché mi ha dato molti consigli. E lasciate like, seguitemi sia su Instagram che su Musical.ly e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!